No, no, ci teniamo tantissimo alla partita contro il Cotton perché ancora ci brucia la sconfitta immeritata dell'anno passato. Sappiamo che loro rispetto all'altranno si sono rinforzati tantissimo, però come avete visto il Pumas è una squadra che non molla mai. Sicuramente i valori del Cotton li sappiamo tutti, però per espugnare il campo dell'atletico dovranno darci molta battaglia perché non lasceremo i tre punti.